Rivenenze a tutta la valle spaziale Dario Rivenenze a tutta la valle spaziale Tempo fa abbiamo fatto un video E abbiamo premesso che a un certo numero di like Avremmo pubblicato un video in cui Fissavamo in silenzio una pentola per 10 minuti E questo è quel video Fissiamo una pentola per 10 minuti E' avviva Siete pronti? No 3 Mi devo prepararti Io mi tolgo gli occhiali 3 Così non vedi niente Ma se non so commenta Ragazzi mi raccomando però Tutti concentrati fissa la pentola Non parlate Non distogliete lo sguardo dalla pentola Ci sono delle regole Non possiamo distogliere lo sguardo E non parlare Non muoversi Però puoi apprezzare a livello di 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 Via 2 1 2 3 6 9 8 9 10 11 13 11 12 13 15 15 15 16 18 19 18 19 19 20 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 25 25 Grazie. 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 Comunque il respiro di tonno. Il respiro di tonno. Wow mia perché? Perchè? Sono malissimo. Mosè? 4 minuti dalla fine e abbiamo tutti cominciato a riflettere sulla nostra vita. Sì vero. Quanto è devastante. Quando? Io ho avuto almeno tre idei geniali che... Io ho distolto lo sguardo almeno a 6 volte. Aspetta. Io una volta l'ho distolto, e fa tantissimi sguordi. Ma hai sempre fissato ragazzi. while in un mio xu". Ma è straterapeutico Però è una cosa veramente Life changing Io non fissavo la pente Fissavo un pezzo di riso Io cambiavo prospettive Però mi ha cambiato dentro Mi sento diverso A questo punto direi fate un video in cui fissate Il nostro video in cui fissiamo la penta Poi ce lo mandate Noi faremo un video in cui guarderemo il loro video Mentre loro fanno il video Ragazzi come un allenamento per le ciglia Mi sento molto più potente Viamo a dormire ora Grazie per aver guardato questo video Secondo me non l'hanno guardato Sono andati all'inizio Perché è arrivato qua è stata una gran fatica Ma noi che l'abbiamo fatto? Vabbè ma avranno schippato tutti Sì di sicuro Ciao Ciao Vi siete persi in mezzo al video C'è Nelson che fa una cosa C'è Nelson nudo in mezzo al video Allora lo schippa Diciamo la verità Ci sono almeno tre punti nel video In cui succedono cose Coglieteli e iscrivetevi Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.